benvenuti a questo nuovo video oggi siamo al campo volo dove si allena il drone racing liguria qui con me ho luca alias maraute è uno nella top five del campionato italiano uno che di racing se ne intende e oggi cercheremo di rubare qualche segreto e soprattutto qualche consiglio perché lui ha già passato un sacco dei problemi che possono avere le persone agli inizi un'altra parte Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora caratteristiche alla fine del drone racing più è leggero ed è sicuramente meglio è perché comunque tutto sommato deve essere veloce, scattante, repentino nelle manovre e così via. Ovviamente più peso ha più quindi ti porti dietro quasi deriva nel curvare quindi meno peso ha e tutto sommato più riesci a star staccato. Ovviamente anche questo non dipende solo dal peso ma anche dal gas che dai. Poi specialmente deve essere bello coperto di tutto cioè nel senso l'antenna deve essere ben chiusa, devono esserci meno possibilità di impatto care, meno figli esposti. Tutto sommato e notevolmente si picchia spesso perché per imparare bisogna picchiare o comunque simulatore bisogna fare in modo che tutte queste parti elettronico che siano il più coperte possibile, il più potente possibile. Ora io ho questo frame in mano che lo fa Finz e viene chiamato il Fox V1 ed è fatto proprio apposta perché lo ha studiato con magari un po' di aiuto mio, un po' di aiuto di altri piloti. È riuscito ad arrivare a fare un frame davvero notevole per le corse. Qua come si può vedere l'ESC è molto protetto dal carbonio sia sopra che sotto, molto areggiato in modo da farlo raffreddare più velocemente possibile. Questo è uno dei primi che viene diviso l'ESC dalla FC in modo da comunque sia come protezione e anche come uno stile nuovo ecco da dire anche quello. Tutto sommato funziona bene, come idea è stata geniale diciamo. Allora tanto quello che si chiedono sempre a tutti è che motori monta, che elica monta, il frame quanti pollici è. Allora in teoria l'elica è un po' una cosa anche individuale su quella, c'è chi preferisce, ad esempio io monto le 51-46, c'è qualcuno che preferisce, ho già montato anche le 51-43, c'è chi usa addirittura le 51-38. C'è di vari tipi, uno bisogna anche che si trovi in questo, il motore fa un tot di giri, più l'elica fa un tot di giri, quindi con meno pitch è automaticamente più stabile il drone. Ovviamente ognuno si sceglie il suo modo per farlo andare, automaticamente mettendo meno pitch, girando più l'elica il drone è più stabile, uno magari lo preferisce più stabile. Arriva a un livello che dici ok preferisco magari un pelo più di velocità, però riesco comunque a tenerlo bene, nel senso a fargli fare le manovre che voglio, quindi uno si sceglie un po' le eliche che vuole. Motori io uso questi qua 6S che sono gli X9 1950, proprio perché comunque usando anche un pitch un po' più basso, 46 rispetto ad altri, mi trovo veramente bene. Ecco, diciamo così, io ho trovato sto mix che mi piace molto. Quindi comunque il consiglio iniziale è provare due o tre tipi di eliche diverse e poi vedere come ci si trova, come stile di guida. Esatto, esatto, cioè bisogna, innanzitutto questo è uno sport dove tu devi provare di tutto e di più, cioè ovviamente prima arrivi a un livello con una determinata cosa, però è anche giusto che se non provi altre cose, non vai a migliorare, automaticamente il tuo miglioramento sarà sempre più lento. Poi pian pianino scopri quello che ti piace, quello che, come vuoi farlo andare, pian pianino capisci tutte queste informazioni che ti arrivano e allora riesci anche a velocizzare il miglioramento. Scegli tipologie di motore, preferisci magari fargli fare KV più bassi con un pitch più alto, tutte queste cose qua diventano quasi un po' individuale, con me uno ha più piacere di fare rispetto a un altro metodo. Ok, allora sappiamo tutti che per iniziare è molto importante l'uso del simulatore perché è molto più comodo da provare e soprattutto costa molto meno allenarsi su un simulatore che dal vivo. Allora vogliamo sapere, uno, che simulatore consigli e due, quante ore, perché è giusto anche che le persone lo sappiano che non è che si arriva a certi livelli senza faticare, soprattutto senza costanza, quante ore di simulatore dedichi alla settimana? Allora, diciamo così, simulatore io consiglio veloci drone perché comunque per me è il più ideale alla realtà. Ti dico, prima di passare a un drone vero bisognerebbe che almeno quelle 10-20 ore sul simulatore le abbia fatte, ma almeno in modo da rendersi conto, capire bene. Poi se ne vuol fare anche di più, meglio per lui perché spaccherà di meno. Tutto sommato il simulatore lo straconsiglio, anzi addirittura vi dirò, al simulatore all'inizio succederà che è possibile che vi venga anche nausea, a volte nel volare perché tutti questi movimenti repentini ho avuto amici che hanno avuto nausea. Però è una cosa passeggera, almeno a me è passato dopo poco, quando avevo cominciato. Tutto sommato io mi alleno ancora parecchio sul simulatore perché è la base per tenere le dita allenate, per comunque tenere il cervello allenato, queste cose qua. Io faccio ancora più o meno un'ora, due ore al giorno, dipende dai giorni, anche perché lavoro e sono vecchio, quindi c'è un figlio. Purtroppo bisogna lavorare e ci sono anche altri impegni della vita, però quello di senza purtroppo gli altri impegni sono più piacevoli. Diciamo che per cominciare può essere tutto, per cominciare si può avere comunque tranquillamente un qualunque drone, un qualunque frame, non c'è problema. Per cominciare è giusto che provi tutto e di più, quindi non serve proprio partire da una cosa studiata per andare più forte. Poi è ovvio, se uno comincia dal top, costerà di più, però arriva anche più velocemente al top. Ok, quindi prima cosa ovviamente una buona radio, il simulatore e allenamento. Poi esattamente come ho fatto io, ho comprato un Nazgul che non nasce per fare il racing, però per iniziare a prendere confidenza con gli ostacoli e con il volo, con la gravità. Perché poi all'inizio il problema è che la gravità non è che puoi stare fermo, la gravità ti spinge giù. E quindi nel senso, prendere confidenza con l'aria, con il motore, con tutto il resto, con le regole. Perché poi chi fa FPV in compagnia di altre persone deve rispettare delle regole. Non solo deve rispettare. Noi abbiamo delle regole, tutti quelli che fanno gare, tutti quelli che comunque noi siamo in ogni gruppo, dobbiamo avere il patentino. Uno è un minimo di assicurazione proprio per ogni inconveniente. Comunque sia, è meglio seguire le regole. Una cosa del genere può far veramente male. Tagliano. Questi sono, io parlo di questo mezzo qua, va oltre i 140 all'ora, preso sulla faccia. Rimane una cosa devastante per chi lo prende. E quindi mi raccomando, sempre con le regole sia di patente che di assicurazione. Perché è inutile fare l'assicurazione se uno non ha il patentino. Ok, poi altra cosa che bisogna sapere è che ovviamente volando in gruppo su delle frequenze, anche sulle frequenze, bisognerà mettersi d'accordo e ognuno stare su una frequenza diversa per non darsi fastidio. Ovviamente sì, noi siamo un gruppo che riusciamo a volare fino a 4, 5, addirittura 6 persone alla volta. C'è la possibilità anche di volare in 8 persone alla volta, però bisogna essere molto bravi a scegliere le frequenze giuste, la distanza giusta. Diciamo così, quando uno viene con noi, noi abbiamo questa associazione DR Liguria, praticamente facciamo la regola in modo che possiamo volare tutti, tutte le frequenze possibili, in regola ovviamente. In modo che si ci diverta anche più persone alla volta. Ok, allora adesso per concludere, tre consigli che daresti a uno che ha appena iniziato e soprattutto cose più difficili che uno si troverà ad affrontare partendo da zero, diciamo. Allora, una delle cose che consiglio principalmente, tra virgolette comunque diventa anche meno costoso, simulatore che non costa tanto, ho comprato online, quello che è, adesso non mi ricordo quanto sia la cifra, e una radio già mezza buona, in modo da capire se comunque realmente a una persona piace o non piace questo sport. Diamo un modello, un entry level tuo preferito, poi lo so che ognuno, anche lì la radio è una cosa molto personale, però diamo il nome di un modello che tu consiglieresti all'inizio. Allora, all'inizio uno può anche prendere una classica FR Sky, anche se non hai gimbal elettronici, cioè i potenziometri vanno bene comunque, perché comunque già l'FR Sky, io ho una FR Sky, però adesso ci sono anche altre nuove radio che sono entrate, molto buone, meno costose, però comunque si può partire anche a trovare una radio serie dagli 80 euro in su, non scendete sotto agli 80 euro perché poi non ne vale la pena, i gimbal non sono così buoni. Ok, proprio a livello di mentalità, cosa consigli per chi inizia questo sport? Cioè bisogna essere aggressivi, bisogna andare con calma, bisogna anche prepararsi a rompere, quindi a riaggiustare il proprio odore, cosa consiglieresti? Tutto sommato, per chi fa questo sport qua, deve avere comunque un pochino di domestichezza con il saldatore, quello a stagno, un minimo di elettronica, ma niente di che, giusto da sapere dove vanno collegati dei cavi in caso si staccassero, perché comunque un urto può essere che ti taglia un cavo, che altro? Se incominciate a fare questo sport qua, cercate di fornirvi un po' di eliche in modo giustamente, perché uno tocca, si spacca l'elica e comunque deve averle per rivolare, per sostituirle. Sì, confermo, anche se uno ha una guida pulita le eliche, sicuramente un paio ne farà fuori, ogni tour. Solo che uno a terra, se a terra male che c'è una pietrolina un po' più grossa a fianco e non se ne accorge, picchia l'elica sulla pietrolina, l'elica comunque si rovina, si può rompere, comunque ovviamente anche se è rovinata ci si può volare lo stesso, però farà più rumore l'impatto che ha l'elica sull'area, quindi automaticamente sarà più rumorosa. Ultima domanda, parlami un po' di questa associazione che è nata e soprattutto cosa si prefigge, quali sono gli obiettivi per quest'anno e soprattutto dove volete arrivare. Allora, noi diciamo così come tutti cominciano, siamo nati praticamente quattro persone che gli piaceva questo sport, questo hobby, abbiamo deciso di trasformarla in un'associazione, stiamo facendo ancora, stiamo ancora finendo di creare questa associazione, perché non è ancora finita di crearsi, però vedo che la gente è soddisfatta, gli piace inserirsi nel gruppo e poi più che altro c'è sia la possibilità di fare sia race, come stiamo facendo in questo momento, ma comunque dedichiamo anche delle giornate allo svago, nel senso mid range, long range, ovviamente in regola tutto quanto, quindi automaticamente siamo un po' aperti al tutto, c'è comunque anche qualche d'uno di noi che usa, c'è anche gli aeroplani, quindi nel senso vengono qui e giocano con l'aeroplano, però diciamo così siamo un po' aperti a tutti, ovviamente quando ci sono le giornate del race si fa race. Per me diciamo così, l'associazione, come ripeto, è nata in quattro persone, pian pianino siamo arrivati adesso ad avere una ventinatura, e pian pianino andremo sempre di più, seguendo sempre più regole, cercando di avere un nostro campo un po' più attrezzato e così via. Vorremmo nel tempo essere uno di quei campi attrezzati proprio per questo sport qua. Un altro consiglio che mi sentirei di dare, sì ci sono i tutorial su internet, stanno dando altre cose, però avere una persona vicino che ha imparato prima di te e può darti dei consigli è molto utile. Quando si prova, soprattutto all'inizio, che si hanno un sacco di paure, poche conoscenze, avere una persona a fianco che ti aiuta è sempre molto importante. Si cresce molto più velocemente avendo una persona diciamo al fianco che ti spiega, ti aiuta, tra di noi tutti cerchiamo di aiutarci in quello che riusciamo, in quello che sappiamo, e ovviamente più siamo, più impariamo automaticamente, è proprio una regola nel senso, più siamo, più impariamo e più automaticamente si diventa bravi più velocemente tutti. Quindi mentre provate col simulatore, va bene, noi siamo di Genova, ma cercatevi magari qualcuno, qualche gruppo vicino a casa che vi può aiutare all'inizio. Se ti interrompo, ma con questa cosa qua del simulatore, noi oltretutto come associazione una volta a settimana ci vediamo online, grazie a Discord in modo da trovarci tutti online, e grazie al simulatore, comunque giochiamo tutti insieme al simulatore online e facciamo le nostre garette online. Quindi nel 2021 è anche bello quello, abbiamo la tecnologia, abbiamo tutto inverno, qualsiasi condizione meteo, comunque sul simulatore sappiamo di divertirci. Una volta a settimana noi ci vediamo sempre, che piova o che non piova, comunque ci vediamo o online oppure direttamente al campo. Online è un po' più brutto perché a me piacerebbe stare più all'aria aperta, però diciamo mi accontento anche di stare a casa davanti a un pc, intanto comunque allenamento. Sì, diciamo che le sensazioni, il rumore del motore come dal vivo, il simulatore non riesce a riprodurlo. No, esatto, difatti è un simulatore, comunque ti tiene allenato e questa è la cosa essenziale per questo tipo di sport. Ok, ringraziamo Luca, adesso come abbiamo detto è quarto in campionato, speriamo alla prossima intervista che sarà lui il campione italiano. Lo spero, io ci provo e cercherò di migliorarmi sempre di più, anche se sono vecchio andremo avanti, dai. Averto gli avversari, state attenti perché Luca ha sete e fame soprattutto di vittorie. Ciao a tutti, ciao, grazie.